Dopo la liquidazione coatta del 26 ottobre 2009, i soci della Banca Popolare Valeditria e Magna Grecia chiedono supporto all'associazione Noi Consult per il proseguo delle attività volte a garantire i diritti ormai acquisiti. Un ricorso al Capo dello Stato è un atto obbligato per noi del Collegio Difensivo perché non avevamo un'alternativa giudiziaria trattandosi l'atto impugnato, un atto ormai definitivo. Quindi necessariamente un ricorso al Capo dello Stato che mette in evidenza alcune illegittimità che noi riteniamo e sussistano sulla base di quella che è stata la documentazione che abbiamo acquisito grazie a un'istanza di accesso agli atti fatta, formalizzata in nome per conto di alcuni ex soci alla Banca d'Italia. Una documentazione che ci ha consentito di articolare appunto il ricorso al Capo dello Stato. Noi ci auguriamo di poterlo discutere davanti al Tar Lazio anche perché questo ci consentirebbe di avere accesso ad un'ulteriore documentazione che è quella della fase ispettiva che non abbiamo potuto acquisire nelle more. Quindi ci aspettiamo la possibilità di rassicurare i soci e quindi soprattutto di tutelare il valore nominale delle azioni perché noi sostanzialmente riteniamo che i soci non siano stati informatizzati nella fase del commissieramento né nel passaggio successivo che il passaggio a Banca Puglia si poteva evitare considerato anche che Banca Puglia ha acquistato soltanto i rapporti passivi attivi senza acquistare le quote societarie e il passaggio è venuto al prezzo simbolico di un euro. Quindi riteniamo soprattutto che i soci potevano essere tutelati meglio, che potevano essere informatizzati e quindi consentendo loro la possibilità di deliberare e quindi trovare una soluzione alternativa ma soprattutto riteniamo che questo passaggio e soprattutto la cessione, la revoca dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività bancaria poteva essere evitata con una soluzione alternativa quale poteva essere la fusione eterogenea oppure la trasformazione della Banca Popolare in una SPA. Io penso che era doveroso da parte nostra, a distanza di un mese, parlare con i 1500 azionisti e farli partecipi di quelle che sono state le iniziative della nostra associazione. Sicuramente la possibilità che avevamo è quella di ricorrere al Capo dello Stato, essendo scaduti i termini per il Tarlazio, era una delle iniziative che dovevamo fare e che abbiamo fatto. Grazie. 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 Grazie.